I ragazzi sono in giro e hanno stoffa da vendere. A Gaggi, nel Messinese, in piazza Vittorio Emanuele, un concerto evento imperdibile, nato da un'idea di Nicola Inzucchi, in collaborazione con l'Associazione Culturale Sartoria degli Artisti di Castellana Grotte. Protagonisti, i finalisti dell'edizione 2023 di Io Canto Generation, noto programma televisivo condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Spicca il nome di caro la bocca d'oro, Beniamina di casa, che ha incantato tutti nel corso della trasmissione con la sua voce e la sua personalità, entrando nel cuore dei tanti siciliani, e non solo, che l'hanno ascoltata e apprezzata. Con lei, sul palco di Gaggi, ci saranno giovani cantanti provenienti da diverse regioni, i siciliani Andrea Carpinteri e Samuele Spina, Eric Coci dall'Emilia Romagna, Andrea Urru dalla Sardegna e Daniele Mattia Inzucchi dalla Puglia. Un evento imperdibile di portata nazionale, che mira a dare visibilità e spazio ai giovani talenti, fornendo loro un palco per poter esprimere al meglio una passione condivisa, quella per la musica. Durante la serata, i ragazzi si esibiranno con brani del repertorio italiano e internazionale, offrendo al pubblico una straordinaria selezione di canzoni che spaziano dai classici senza tempo ai successi contemporanei. Insomma, uno show tutto da vivere perché, come detto, i ragazzi sono in giro e hanno stoffa da vendere.